Il mio nome è Carmelo Pozzo, sono un medico oncologo della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma in veste di visiting professor alla Salus periodicamente con cui abbiamo stabilito una collaborazione sia per quanto riguarda il training del personale infermieristico e medico sia per quanto riguarda l'assistenza ai pazienti. La tipologia dei pazienti che possiamo vedere in Salus è molto simile a quella che osserviamo negli altri paesi occidentali e in Italia quindi con i maggiori tumori tutti rappresentati qui nella richiesta che viene fatta quotidianamente all'oncologia della clinica Salus, dell'ospedale italiano Salus e in particolare i tumori che vediamo più frequentemente sono i cosiddetti FI Big Killers quindi polmone, mammella e alcuni tumori gastrointestinali come colon, stomaco e pancreas c'è poi tutto un settore, una fetta diciamo di pazienti con tumori ginecologici che vengono seguiti dai nostri colleghi ginecologi, chirurghi e oncologi che afferiscono anche loro alla Salus. Quali trattamenti e qual è l'iter diagnostico e terapeutico di questi pazienti alla Salus? La Salus dispone di una radiologia molto sofisticata quindi con TAC risonanze di ultima generazione per cui il paziente che arriva al nostro ospedale diciamo afferisce a queste strutture in relazione alle richieste effettuate dai singoli medici di famiglia che li inviano a noi o dagli specialisti interni dell'ospedale e proseguono al loro iter diagnostico dopo aver avuto una valutazione oncologica in cui viene richiesta un particolare esame o un particolare approfondimento diagnostico e quindi possono andare incontro a esami endoscopici come se parliamo di tumori ad esempio gastrointestinali, colon e stomaco e successive biopsie e anatomia patologica quindi con valutazione dei marker e delle caratteristiche molecolari della neoplasia e si stabilisce successivamente un trattamento. I trattamenti che facciamo in Salus sono dei trattamenti all'avanguardia che comprendono sia le chemioterapie standard in associazione a quelle che sono le nuove acquisizioni in tema terapeutico cioè quindi con farmaci biologici, agenti cosiddetti targeted e immunoterapia. In particolare quest'ultimo aspetto stiamo cercando di curarlo in collaborazione con i colleghi albanesi che lavorano anche qui alla Salus ma anche esternamente e cercando di offrire al paziente le terapie più efficaci e più moderne disponibili nelle varie patologie. Per quanto riguarda la caratterizzazione molecolare ci siamo anche associati a dei laboratori che consentono di effettuare degli approfondimenti diagnostici e la determinazione di target e di marker di particolare rilevanza sia per quanto riguarda l'indicazione all'immunoterapia quindi con MSI, PD-L1 e altri che sono comunemente utilizzati nella indicazione a trattamenti innovativi o patologia per patologia determinate caratteristiche biologiche che sono oggi assolutamente indispensabili per la definizione di un corretto iter terapeutico. mi riferisco per esempio ai tumori della mammella tutte le caratterizzazioni molecolari che riguardano le neoplasie mammarie dall'ER2, K67 e altri aspetti che sono estrogeni, progesterone e altri aspetti anche più innovativi come pietricanese o altre caratterizzazioni diciamo genomiche più che molecolari attraverso specifici pathway di valutazione del genoma e in altre neoplasie come il polmone o colon o stomaco la ricerca di particolari target tra cui GFR o PD-L1 o MSI come abbiamo detto in precedenza e nel colon in particolare il RAS, BRAF e altre caratteristiche biologiche mentre nello stomaco l'ER2 e come probabilmente faremo anche in futuro con altre più recenti acquisizioni in tema di terapia biologica e necessità di determinare uno specifico driver. Per quanto riguarda l'organizzazione del trattamento i pazienti vengono accolti da un'equip locale di colleghi albanesi e visitati periodicamente anche dagli specialisti italiani consentendo un trattamento offerto nella migliore modalità quindi con la presenza di infermieri specializzati anche nella preparazione della chemioterapia e con periodiche valutazioni del paziente in relazione alla patologia. Oltre ai pazienti in trattamento per una malattia avanzata abbiamo anche una stretta collaborazione con i chirurghi sia il chirurgo generale sia il chirurgo ginecologico ma anche otorinolaringoiatra attraverso continui scambi con i colleghi e la definizione di meeting multidisciplinari che sono in procinto di essere organizzati e che consentono con la partecipazione di più specialisti una gestione ottimale del paziente da parte di più expertise, da parte di più specialisti permettendo al paziente di ottenere quella che è la migliore terapia in relazione alle linee guida internazionali pur tenendo conto dei limiti della prescrivibilità di alcuni farmaci in Albania e del loro costo. L'accesso alla nostra struttura è molto semplice basta prendere un appuntamento nelle varie vie telefoniche o email, sono via via comunicate e il paziente viene visto dallo specialista più idoneo della struttura sono felice di collaborare con la Salus e di accogliervi presso questa struttura insieme ai colleghi più giovani e anche agli altri specialisti di patologia specialisti d'organo e provvedere diciamo a quello che è l'iter diagnostico e terapeutico più utile per la malattia di cui il paziente oncologico è affetto vi ringrazio per l'attenzione e aspetto di vedervi in Salus in relazione alle vostre esigenze e necessità